Ciao! Siete curiosi di sapere quali sono i mezzi di trasporto che utilizzo abitualmente? Se ne avete voglia, seguitemi in questo racconto. Io sono Silvia e vivo a Milano da cinque anni. Quando mi trasferì per la prima volta a Milano, portai con me solo la mia vecchia auto e una valigia piena di sogni e aspirazioni. La città, con le sue luci sfavillanti e le strade vibranti di vita, sembrava il luogo perfetto per iniziare un nuovo capitolo della mia vita. La mia vecchia auto, una Fiat Punto, con il suo colore pastello e il dolce ronzio del motore, era per me un simbolo di libertà, un pezzo di casa che mi accompagnava in questa grande avventura. Tuttavia, la realtà di vivere in una metropoli come Milano si rivelò presto molto diversa dalle mie aspettative. Avevo immaginato di muovermi agilmente per le strade della città, ma mi ritrovai invece intrappolata in un traffico incessante, dove ogni spostamento diventava una prova di pazienza. Ogni giorno impiegavo circa un'ora per arrivare al lavoro, rimanendo bloccata in un mare di auto per tempi che sembravano interminabili. Il traffico costante, i claxon e l'aria carica di smog trasformarono ben presto i miei spostamenti quotidiani in una fonte di stress costante. La mia amata Fiat Punto, che in altri contesti era stata una compagna fedele e affidabile, in questo nuovo scenario si rivelava inadeguata e quasi un peso. Inoltre, essendo una macchina non più nuovissima, alcuni punti della città erano persino vietati per un'auto non recente come la mia, a causa delle normative per la riduzione dell'inquinamento. Dopo mesi di riflessioni e indecisioni, presi una decisione difficile ma necessaria, vendere la mia Fiat Punto. Fu una scelta sofferta, perché significava lasciare andare non solo un oggetto, ma un pezzo della mia storia e delle mie radici. Questo cambiamento segnò l'inizio di una nuova fase della mia vita a Milano. Senza l'auto, iniziai a esplorare alternative per i miei spostamenti, come la metropolitana, i tram e le biciclette. Senza più la mia Fiat Punto, iniziai a utilizzare i tram per spostarmi. Milano offre un modo unico e caratteristico di attraversare la città grazie alla sua vasta rete di tram, che offre scorci pittoreschi e angoli nascosti che in auto non avrei mai notato. Tuttavia, anche questa nuova modalità di trasporto non era priva di difficoltà. Nei primi giorni mi trovai a dover navigare la complessa rete di linee tramviarie, cercando di memorizzare fermate e orari che mi sembravano un labirinto incomprensibile. Più di una volta, presi il tram sbagliato, ritrovandomi in quartieri sconosciuti, lontana dalla mia destinazione. E poi c'erano i giorni di pioggia, quando il tram si trasformava in un rifugio affollato e umido, con le finestre appannate che rendevano il viaggio ancora più claustrofobico. Dopo le avventure e le disavventure con i tram di Milano, la mia esplorazione dei mezzi di trasporto cittadini mi portò a fare una scelta definitiva, la metropolitana. La scelta di prendere la metro ogni giorno nasce da una serie di vantaggi che hanno migliorato notevolmente la mia qualità di vita. Primo fra tutti, la velocità. La metropolitana di Milano, con le sue linee che si snodano sotto la superficie cittadina, mi permette di attraversare la città in tempi brevi, evitando il traffico e le incertezze legate agli spostamenti in superficie. Questo significa poter dormire qualche minuto in più la mattina o avere più tempo libero la sera dopo il lavoro, piccoli lussi molto apprezzati. Inoltre, in metro, posso ascoltare musica o leggere un libro senza preoccuparmi dell'affollamento, grazie alla regolarità e alla frequenza dei passaggi che riducono al minimo i tempi di attesa. Oggi, scegliere di prendere la metro non è solo una questione di comodità, ma anche una scelta consapevole che riflette il mio desiderio di vivere la città in modo sostenibile. Utilizzando il trasporto pubblico, contribuisco a ridurre l'inquinamento e l'affollamento delle strade, facendo la mia parte per una Milano più vivibile e verde. In tarda serata, quando la metropolitana chiude i battenti e non è più un'opzione, mi affido ad altri mezzi di trasporto, i servizi di taxi e di ride sharing come Uber. La prima volta che ho dovuto chiamare un taxi dopo una serata trascorsa con alcuni amici, ero un po' titubante. Avevo sentito parlare di questi servizi, ma non li avevo mai utilizzati. Tuttavia, ho scoperto che questi servizi notturni offrono una comodità e una sicurezza insostituibili. Utilizzare taxi o Uber mi permette di tornare a casa in sicurezza, senza preoccuparmi di orari o percorsi. La comodità di poter prenotare un passaggio direttamente dal mio smartphone, conoscendo in anticipo il costo e il tempo di attesa, ha reso queste opzioni decisamente vantaggiose. Inoltre, i conducenti spesso conoscono scorciatoie e vie meno trafficate, consentendo di scoprire nuove parti della città anche di notte. Questi servizi di trasporto hanno anche ampliato le mie possibilità sociali e culturali. Sapendo che posso contare su un passaggio sicuro a casa, mi sento più libera di esplorare eventi serali, concerti, mostre e cene fuori, senza la preoccupazione di dover rincasare prima della chiusura della metro. Milano di notte offre un'atmosfera unica e grazie a taxi e Uber posso immergermi completamente in essa. Ovviamente, l'uso di questi servizi comporta un costo maggiore rispetto ai mezzi pubblici, quindi li utilizzo con giudizio, bilanciando il desiderio di godermi la città con la necessità di mantenere sotto controllo le mie spese. Tuttavia, in determinate occasioni, la spesa extra è giustificata dal valore aggiunto in termini di comodità e sicurezza. La combinazione di tutti questi mezzi di trasporto, metro, tram, taxi e servizi di ride-sharing mi ha insegnato a vivere Milano in tutta la sua complessità e bellezza. La domenica mattina, quando le strade di Milano sono ancora tranquille e l'aria è fresca, prendo la mia bicicletta e mi avventuro fuori casa. Questa routine domenicale è diventata un rituale, un modo per riconnettermi con la città in cui ho scelto di vivere, lontano dal caos e dalla frenesia dei giorni feriali. La bicicletta, che tengo sempre pronta nel mio piccolo appartamento, è il mio mezzo prediletto per queste esplorazioni domenicali. Negli ultimi anni, Milano ha fatto grandi passi avanti nel promuovere la mobilità sostenibile e le piste ciclabili si sono moltiplicate, creando una rete che copre gran parte della città. La domenica, quando il traffico si riduce, queste vie diventano corridoi silenziosi e sicuri, perfetti per chi, come me, ama pedalare senza fretta, assaporando ogni dettaglio del paesaggio urbano. Il mio percorso preferito inizia nel quartiere dove vivo, attraversando stradine acciottolate e piccole piazze, fino a raggiungere la grande pista ciclabile che costeggia uno dei navigli. Le rive sono animate da runner, famiglie che passeggiano e altri ciclisti, tutti condividendo lo stesso desiderio di godersi la città in una versione più tranquilla e genuina. Proseguo poi verso il Parco Sempione, uno dei polmoni verdi di Milano. Entrare nel parco in bicicletta è come varcare la soglia di un altro mondo. Il rumore del traffico si attenua, lasciando spazio al cinguettio degli uccelli e al fruscio delle foglie mosse dal vento. Le ampie piste ciclabili mi invitano a rallentare ulteriormente, a fermarmi di tanto in tanto per ammirare la maestosità dell'arco della pace o la tranquillità del laghetto. Utilizzare la bicicletta mi permette non solo di fare esercizio fisico, ma anche di scoprire angoli di Milano che altrimenti mi sfuggirebbero. Ogni domenica è un'avventura diversa, un'opportunità per vedere la città sotto una nuova luce, per notare dettagli che durante la settimana mi sfuggono. Un cortile nascosto dietro un portone semiaperto, un murales in una via secondaria, la quiete di un bar che si prepara ad accogliere i primi clienti. La scelta di pedalare ogni domenica è per me anche un impegno verso uno stile di vita più sostenibile, un piccolo gesto per ridurre il mio impatto ambientale in una città che, nonostante i suoi sforzi, lotta ancora con i livelli di inquinamento. È una scelta che mi fa sentire più in armonia con l'ambiente che mi circonda. E così si conclude la mia avventura tra i meandri dei trasporti milanesi. Attraverso questa esperienza ho imparato che ogni mezzo di trasporto può avere vantaggi e svantaggi. Ho scoperto la bellezza della lentezza pedalando lungo i navigli la domenica mattina, la praticità e l'efficienza della metropolitana che mi consente di immergermi in un libro durante il tragitto e la comodità dei servizi auto nelle notti milanesi. Grazie per la visualizzazione. Se non è un grosso problema, supportaci cliccando like, commentando, iscrivendoti e attivando la campanellina. Sarà di supporto per aiutarci ad aumentare la qualità del canale. Grazie.